Mi piace pensare che come una retta è costituita da infiniti punti, un viaggio è costituito da infinite emozioni. Ho attraversato cinque nazioni, sono partito dalla Francia per poi proseguire in Svizzera, sono entrato in Germania e poi tornando indietro ho attraversato Austria per rientrare in Italia. Mi piace pensare che quando uno torna a casa da un viaggio rimane qualcosa dentro di sé, qualcosa che comunque insegna, esperienze, emozioni. Solo natura, silenzio, avventura, scoperta, ma la parola chiave direi che è libertà. Grazie a tutti.